Ciao, sono Maria Grazia Tomaselli e partecipo per la categoria Brand New. Vivo a Catania e tuttavia mi immagino vivere in un mondo fatato e meraviglioso. Ed ecco che questa torta, che rappresenta il mio I.M., rappresenta me in una contestualizzazione di bosco e creature fantastiche. Questa sono io, mentre preparo i miei manicaretti preferiti. E mi sono voluta immaginare proprio sul mio grande libro delle ricette. Queste creature qui rappresentano i miei folletti immaginari e sono coloro che mi aiutano nella realizzazione delle mie torte. Sono loro, infatti, che mi raccolgono le fragole fresche oppure le arance che crescono abbondanti nella mia isola. Anche delle uova, di portarmi le uova fresche, se ne occupano sempre loro. Il drago, invece, rappresenta le difficoltà e le preoccupazioni che si hanno ogni qualvolta ci si accinge alla realizzazione e alla progettazione di una torta. Grazie a tutti dell'attenzione. Ciao! Grazie a tutti!